Io ringrazio molto l'Università di Udine per avermi invitato a prendere la parola in questa giornata così importante e per avermi chiesto di farlo con un discorso con qualche considerazione sul diritto alla cultura nella Costituzione italiana. Vorrei prima di cominciare questo discorso dire qualcosa sulla circostanza dell'inaugurazione di una nuova sede. Io vengo come è stato già ricordato dalla scuola normale di Pisa dove ho fatto lo studente, il professore, il direttore. Da questa esperienza ho imparato un paio di cose che vorrei ricordare qui. La prima è quanto sia importante la sede di una istituzione, qualsiasi istituzione, in particolare di una scuola di eccellenza. Il vero decollo della scuola normale non fu, con la tanto decantata fondazione napoleonica, noi siamo un po' più vecchi della vostra scuola, la scuola normale è stata fondata nel 1810 da Napoleone, ma il vero decollo fu quando il Gran Duca di Toscana la posse nel 1846 nel Palazzo dei Cavalieri, perché il Palazzo dei Cavalieri, o più propriamente della Carovana, era a sua volta, aveva una grande tradizione educativa perché era stato per secoli il collegio del noviziato dei Cavalieri di Santo Stefano, cioè un collegio nobile di studenti dell'Università di Pisa. Quando ho sentito che qui c'era un convitto, un importante convitto che ha avuto un ruolo nella storia civile della città, questa è veramente la scelta giusta. Come la scelta giusta io credo che sia recuperare i ritratti dei colti di Topo Wasserman, recuperare le panche, come il rettore ci ha detto, recuperate le panche, piuttosto che distruggere i vecchi arredi, è il momento di ritrovare il senso dei vecchi arredi e il senso della continuità. La seconda cosa che ho imparato in questi anni della scuola normale, che vorrei ricordare qui, è che la vera maturità di una scuola superiore si raggiunge quando gli allievi diventano più importanti dei maestri, quando la qualità degli allievi vale di più. Questa è la vera sfida e questa è la sfida che voi, spero, vinciate. Parlare oggi del ruolo della cultura nella Costituzione vuol dire riflettere su un orizzonte di valori che è quotidianamente sotto attacco, anzi a rischio di demolizione, perciò è tanto più importante il segno di speranza che viene oggi da Udine. Per mostrare che non ho esagerato nel dire quel che ho detto, vorrei prima ancora di parlare di principi costituzionali, ricordare qualche fatto e qualche dato indubitabile. Nessun Paese al mondo ha una Costituzione che affermi il diritto alla cultura con tanta forza e coerenza come la nostra. Eppure, nessun Paese in Europa ha tagliato gli investimenti pubblici in questo settore quanto l'Italia. Cito un solo fatto fra molti. Nel giugno 2008 l'allora Ministro Bondi, appena insediato al Ministero dei Beni Culturali, dichiarò alla Camera e al Senato con identiche parole, cito, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per la percentuale della spesa in cultura sul bilancio dello Stato, 0,28% contro l'8,3% di Svezia e il 3% di Francia. Questa è la dichiarazione di Bondi, aggiungendo, mi impegno a invertire questa tendenza negativa. Era il 3 giugno. Il 30 luglio il suo bilancio fu tagliato del 50%, fu tagliato di oltre un miliardo di euro senza che il Ministro Bondi fiatasse. A colpi di decine di milioni lo stesso Ministro e i suoi successori Giancarlo Galan e Lorenzo Ornaghi hanno totalizzato ulteriori tagli per altre centinaia di milioni. Proseguendo una politica miope è fondata non solo sul continuo calo delle risorse, ma anche sull'assoluta mancanza di turnover del personale tecnico scientifico dei beni culturali, soggetto a continuo invecchiamento. Ed è un fenomeno questo molto preoccupante, lo ricordo in questa sede, perché questo fenomeno contrasta con il fatto che in questi decenni di mancate assunzioni le università hanno continuato a produrre aggetto continuo laureati in beni culturali, archeologia, storia dell'arte, votandoli alla disoccupazione o alla emigrazione. Questo è quello che è successo. Questa politica dei nostri governi, di ogni segno, si è radicata a lungo fino alla recente, timida, ma bisogna dire anche che c'è stata, una piccola inversione di tendenza annunciata dall'attuale Ministro Franceschini con l'incremento del bilancio del suo ministero dell'8%, certo rispetto a un taglio di quelle portate e poco, dell'8% nel 2016, del 10% nel 2017, con l'annuncio, a mio avviso ancora più importante, della progettata assunzione di 500 archeologi, storici dell'arte, restauratori, archivisti, bibliotecari e architetto. Pochissimo rispetto alle vere esigenze, ma già qualcosa rispetto alla lunga afasia e paralisi dei governi precedenti. Ma i dati della situazione italiana sono davvero allarmanti. Quelli che sto per offrire si basano su una sola fonte, la Presidenza del Consiglio. Il rapporto, i flussi finanziari pubblici nel settore cultura e servizi ricreativi. Il Dipartimento per l'analisi dei conti pubblici territoriali, che fa parte del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Presidenza del Consiglio, ha prodotto un rapporto molto accurato, che è stato stampato, ma è anche accessibile sul sito della Presidenza del Consiglio. Io uso solo quei dati, perché più ufficiali di così non si può. Questo rapporto è molto interessante, come vedremo, anche perché contiene dei dati disaggregati per regione, io non posso entrare così nel merito, ma si apre anche opportunamente con una valutazione del contesto internazionale. Risulta così che l'Italia è fra i paesi europei che hanno disinvestito più fortemente negli ultimi anni. Fino al 2009, secondo questo rapporto, l'Italia spendeva in cultura allo 0,9% del PIL, ma è calato allo 0,6% nel 2011, finendo così all'ultimo posto fra i paesi dell'Unione Europea. E da allora il calo si è accentuato. Gli ultimi anni, fino al 2014, confermano questo dato. Lieve incremento nelle regioni del nord, quelle del centro stabili sugli stessi valori, al sud un ulteriore, drammatico calo. In Europa l'Italia ha il più alto disinvestimento nel decennio, meno 33,3%, più del doppio del disinvestimento della Grecia. La Grecia ha disinvestito il 14,3%. Intanto altri paesi, dall'Olanda all'Ungheria, dalla Danimarca alla Slovenia, investono nel settore oltre l'1,5% del PIL e quasi tutti gli altri paesi oscillano fra l'1 e l'1,5%. La performance italiana è imbarazzante, anche se valutata come fa il rapporto solo in relazione al PIL. Se poi però la valutassimo in relazione alla importanza del patrimonio culturale italiano, al fatto che nessun paese ha una diffusione capillare del patrimonio sul territorio che abbia l'intensità di quello italiano, questa performance diventa ancora più imbarazzante. l'Italia dovrebbe spendere più degli altri e invece spende meno. Secondo il rapporto da cui sto citando, la contrazione della spesa nel settore è stata più pesante che in qualsiasi altro, da 51,62 euro pro capite nel 2000 a 30,52 euro pro capite nel 2011 e da allora è calato, anche se non ci sono ancora dati definitivi, almeno secondo questo rapporto. Ma è anche questo significativo, che i dati significativi non raggiungono la presidenza del Consiglio con tre o quattro anni di ritardo. Questa contrazione della spesa è distribuita nelle diverse aree del Paese in modo non uniforme. Il disinvestimento è rilevante dappertutto, però colpisce specialmente le regioni del sud, accentuando il suo divario storico dal centro-nord. Le risorse aggiuntive, fonti strutturali e fondi comunitari, tendono a privilegiare il sud, però sono lontanissime dal colmare l'enorme gap che lo separa dal nord, senza contare che in alcune regioni, come la Puglia e la Sicilia, si è registrato dopo il 2009 un fortissimo collo della spesa aggiuntiva. Il fatto che il sud sia così fortemente svantaggiato è dovuto anche a una circostanza importante. Nel nord le fondazioni hanno spesso un ruolo di fatto sostitutivo e non solo aggiuntivo rispetto agli investimenti pubblici. Ma questo ruolo non funziona proprio dove ce ne sarebbe più bisogno, nel sud, perché nel sud le fondazioni praticamente non ci sono. Nel sud né i fondi strutturali, né i fondi di origine europea, né le imprese pubbliche e territoriali riescono a sanare il gap. In altre parole, sud e nord risulta del rapporto della Presidenza del Consiglio, si stanno velocemente allontanando ancora di più l'uno dall'altro. Vi leggo alcune frasi della conclusione di questo rapporto. La cultura è tradizionalmente un asse strategico nelle dichiarazioni degli amministratori e dei politici. Nelle dichiarazioni di amministratori e politici. Ma è al tempo stesso il primo oggetto di taglio di risorse in tutte le fasi di restrizione della finanza pubblica. L'analisi delle dinamiche di investimento e di spesa, continua il rapporto, sto citando, evidenzia che lo sviluppo del settore necessita un'offerta pubblica in grado di stimolare la domanda e ciò soprattutto nei territori caratterizzati da un grado inferiore di sviluppo sociale ed economico. Prevale invece, continua il rapporto, una visione del settore culturale come lusso per tempi felici, effimero rispetto ad altre esigenze. Il rapporto la comanda perciò, cito ancora, una chiara e lungimirante politica nazionale nell'ambito di una governance unitaria. La corta gestione delle politiche di coesione non solo per le risorse aggiuntive che garantiscono ma per la capacità progettuale che richiedono. Infine, l'integrazione di risorse pubbliche e private anche con strumenti di agevolazione fiscale che in Italia mancano quasi completamente e comunque non sono comparabili a quelle di altri paesi come gli Stati Uniti o per citare qualcosa di più vicino a noi, la Francia. Ma il rapporto non dice una cosa molto importante, che non doveva dire, non è una critica a questo rapporto perché è una cosa che però aiuta a interpretare e cioè che la conclamata mancanza di risorse economiche è una menzogna perché non tiene conto di un dato essenziale. I paesi che spendono in cultura molto più dell'Italia hanno molto meno evasione fiscale. Per evasione fiscale l'Italia è al terzo posto nel mondo, dopo il Messico e la Turchia. Sono dati Ocse. Secondo Confcommercio, lo potete vedere nel suo sito, 154,4 miliardi di euro di tasse non pagate dagli italiani nel solo 2013. Recuperare il 10% di questa evasione fiscale vorrebbe dire risolvere i problemi della scuola, della sanità, della ricerca, dell'università, dei beni culturali, dei musei, dei teatri, della musica, eccetera, eccetera, eccetera. In questo, come in altri settori che ho appena citato e aggiungo naturalmente le richieste che dovrebbero essere, le iniziative che dovrebbero essere prese per assicurare casa e lavoro ai più giovani, la lotta alle nuove povertà, in questo senso la lotta all'evasione fiscale dovrebbe essere preliminare a qualsiasi politica della spesa pubblica degna di questo nome. Questa lotta non c'è. Va inoltre registrata una grave debolezza strutturale a livello europeo. Il maggior punctum dolens dell'Europa non è l'euro, bensì il fatto che il progetto di federazione, in quanto costruito soltanto sul versante economico dei mercati, è nato senza una cultura dell'Europa, dunque senza un'anima che possa orientare le scelte e le priorità della spesa pubblica. Come ha scritto un grandissimo costituzionalista tedesco, Peter Heberle, il territorio di uno Stato, ma anche di una regione o di un'entità multistatale come l'Europa, non è, e gli scrive, un factum brutum, ma va inteso come spazio culturale, reso unico da uno specifico orizzonte di valori. Come piccolo segnale positivo si può ricordare una dichiarazione di alcuni deputati del Parlamento europeo, che è molto interessante, ne estrago un paio di brevi citazioni. 1. Lo sblocco generalizzato delle risorse pubbliche, compreso il patrimonio culturale, può generare fino a 40 miliardi di euro l'anno, mentre complessivamente le entrate economiche, dirette e indirette, potrebbero raggiungere nell'Unione i 140 miliardi di euro l'anno. 2. L'accesso alla cultura è fondamentale per l'inclusione sociale dei cittadini dell'Unione, perché consente loro di partecipare all'apprendimento culturale permanente e di trovare posti di lavoro. E infine la terza citazione, il diritto alla cultura è un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione europea che va al diritto all'istruzione e dell'assistenza sanitaria, in quanto incide, come qualcuno oggi ha detto, sulla qualità della vita. Ma il basso livello degli investimenti nel nostro Paese impedisce di affrontare decentemente la quotidianità e l'ordinaria amministrazione nella scuola, nell'università, nella ricerca, nella tutela dei beni culturali, nella promozione della cultura, dell'arte, della musica, del teatro e di ogni altra attività culturale. E dunque a maggior ragione vieta di rispondere adeguatamente alle continue emergenze, la cui frequenza è destinata a crescere, in mancanza di investimenti che le possano prevenire. Le colpe di questa malattia cronica nella gestione della cultura in Italia sono equamente divise fra centrodestra, centrosinistra e governi tecnici. Lo mostra fra l'altro il confronto con le spese in altri settori, per esempio le spese militari. 26 miliardi più i 13 miliardi previsti per l'acquisto di altri bombardieri F-35. 39 miliardi per prepararsi a bombardare gli altri, un miliardo per coltivare la pace e formare i cittadini, le nuove generazioni, i nuovi italiani che risultano dalla massiccia immigrazione senza la quale la nostra economia crollerebbe. Questo disequilibrio la dice lunga sulla indicazioni politiche che ci vengono da chi ci governa. Devo qui almeno accennare, prima di tornare alla Costituzione, alcuni problemi di metodo e di principio. Prima di tutto io credo che la cultura e il patrimonio culturale non vanno visti come un dominio separato, di nicchia, ma vanno considerati in un quadro più ricco, in cui fra l'altro significative convergenze legano la Costituzione italiana ad altre Costituzioni in Europa e nel mondo. È infatti da sapersi che in quel gran laboratorio di pensieri e di progettazione del futuro che fu la Costituente, gli articoli della Costituzione che riguardano il diritto alla cultura e in particolare l'articolo 9, di cui fra poco dirò, vennero proposti all'interno di una più vasta discussione che coinvolgeva in primissimo luogo la scuola pubblica, intesa come luogo primario di formazione del cittadino, della sua responsabilità, di un oculato equilibrio fra diritti e doveri. Altissima fu allora l'ambizione dei Costituenti, severissima fu la loro disciplina intellettuale. Su proposta di Giorgio Lapira furono allora raccolte e tradotte in italiano tutte le Costituzioni del mondo e i membri dell'Assemblea ne studiarono le formulazioni con l'intento di estrarne il meglio e di fare della nostra Costituzione la più avanzata e la più organica del mondo, la più adatta ad affrontare le sfide di uno scenario politico mondiale devastato dalla guerra recente e pieno di incognite per il futuro. Si dice spesso, l'ho detto anche l'allora Presidente della Repubblica Ciampi in un famoso discorso al Quirinale che l'articolo 9 è il più originale della nostra Costituzione, però l'ispirazione di quello che ora è l'articolo 9 venne di fatto dalla Costituzione della Repubblica di Weimar, una Costituzione datata 1919. In essa l'articolo 150 conteneva all'interno di una sezione sulla scuola ed educazione una breve ma chiara prescrizione, secondo cui lo dico in italiano, i monumenti dell'arte, della storia e della natura così come il paesaggio godono della protezione e della tutela dello Stato. È compito dello Stato impedire l'esportazione del patrimonio artistico della Germania. Ora si può dimostrare sulla base delle discussioni dell'Assemblea Costituente che proprio da questo articolo della Costituzione di Weimar prese lo spunto il deputato Concetto Marchesi, grande latinista siciliano e già rettore dell'Università di Padova, per proporre la prima versione di quello che sarebbe stato l'articolo 9. La prima versione è molto diversa dalla versione ultima. Vi leggo come era la prima versione dell'articolo 9. I monumenti artistici, storici, naturali del paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato. Formulazione molto più vicina a quella di Weimar che è l'articolo 9 come lo conosciamo oggi. Su questo testo si crearono immediate convergenze, ricordo tra gli altri perché è particolarmente importante non solo Dossetti ma un giovanissimo deputato democristiano Aldo Moro che con concetto Marchesi avrebbe poi seguito fino in fondo le vicende dell'approvazione dell'articolo 9. Non altrettanto certa ma non esclusa fu anche l'influenza incostituente di un'altra Costituzione preesistente, la Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931 che aveva un articolo abbastanza simile a sua volta influenzato dalla Costituzione di Weimar. L'influenza fra una Costituzione e l'altra all'interno dell'Europa è una di quelle mappe sotterranee delle quali dovremmo tenere conto se volessimo un'Europa che non è soltanto quella della finanza, dei mercati e della borsa. Ci sono altre cose in Europa, non c'è soltanto la finanza. Questa piccola sequenza di Costituzioni richiede però una piccola considerazione storica. La Costituzione di Weimar è del 1919 all'indomani della prima guerra mondiale. La Costituzione italiana è del 1947 all'indomani della seconda guerra mondiale. Nell'un caso come nell'altro la consapevolezza del proprio patrimonio culturale e paesaggistico nasce dal trauma della guerra e della sconfitta con le distruzioni che comporta. Anche in Spagna la Costituzione del 1931 corrisponde è un periodo di profondissima crisi istituzionale e morale che avrebbe condotto ben presto alla guerra civile e alla lunga dittatura franchista. Come nella vita individuale, così anche nelle comunità di cittadini, i traumi provocano una drammatica pausa di riflessione, generano consapevolezza, innescano meccanismi di difesa, costringono a ripensare il passato e a immaginare un futuro migliore del presente, quando il presente ci opprime. Il dolore della perdita, come quello della morte, è un momento di focalizzazione suprema dei meccanismi sociali, mette allo scoperto quello che prima era celato e lo proietta oltre l'ostacolo, verso il futuro. Lasciatemi citare un grandissimo scrittore turco che io amo molto, Orhan Pamuk. A quanto pare non è possibile scoprire il segreto delle cose senza aver avuto il cuore spezzato. Dobbiamo umilmente sottometterci a questa definitiva segreta verità. E il presente, il nostro presente voglio dire, non è meno carico di minacce di quanto lo fossero gli anni di guerra che i nostri padri e i nostri nonni hanno vissuto in prima persona. Gli eventi recenti, come quelli a cui abbiamo assistito con sgomento, in Francia, ricordano da vicino l'alta riflessione di un artista, Alexander Sakurov, che nel suo film Francofonia, presentato alla mostra di Venezia lo scorso settembre, io l'ho visto lì, in Italia deve ancora uscire, ma vi invito veramente a vederlo, è un film che sceglie a protagonista il Museo del Louvre, sintesi della memoria storica dell'Europa e mostra il continuo intrecciarsi di due piani narrativi. Da un lato, il difficile rapporto negli anni dell'occupazione tedesca di Parigi, tra il direttore del Louvre, Jogère, e un altro ufficiale tedesco, Franziskus Wolf Metternich, un membro dell'aristocrazia, che poi sarebbe diventato direttore della biblioteca irziana, che di fatto collaborarono per salvare le collezioni del museo. Dall'altro lato, però, il dialogo fra il regista e un suo ipotetico amico, inventato, che fuggendo da un'Europa in fiamme trasporta su una nave, attraverso il mare in tempesta, i tesori del Louvre ammassati dentro containers. Ma sarà in vano, l'oceano inghiottirà con la nave i capolavori di Leonardo, di Caravaggio, di Rembrandt. Questo è il messaggio spaventevole di questo film. E con essi non solo la memoria, la nostra memoria, la nostra storia, ma anche la sostanza e l'anima del nostro essere davvero cittadini d'Europa. Non è un caso se in anni più recenti altri paesi hanno dedicato spazio nelle loro costituzioni al diritto alla cultura e alle strategie relative, e in particolare la tutela. Cito in Europa solo le costituzioni della formulazione più incisiva, Portogallo, Malta, Svizzera, Grecia, Lituania e Polonia. Si può aggiungere in America Latina la Costa Rica, la Bolivia, l'Uruguay, il Perù, il Salvador, l'Equador, il Guatemala, l'Honduras, Nicaragua, Paraguay, Cuba, Brasile. Il nostro articolo 9 è il modello di tutte queste formulazioni. Ora, innalzare un progetto squisitamente culturale a livello dei principi costituzionali corrisponde è una tendenza di fondo del diritto del nostro tempo mirata ai diritti delle generazioni future come ispirazione delle politiche pubbliche. Per generazioni future si intende non i più giovani che sono qui dentro e neanche i loro figli, ma i figli dei figli dei figli dei loro figli che hanno diritti oggi e se non pensiamo ai loro diritti oggi noi non faremo quello che ci viene richiesto come esseri umani. Lo stesso Heberle che ho citato prima sostiene che lo Stato di diritto si è trasformato nel secolo ventesimo nello Stato sociale di diritto, ma nel ventunesimo deve trasformarsi in uno Stato ambientale di diritto. Nello scenario italiano la precoce coscienza di un intimo legame fra ricerca, educazione e tutela, la precoce coscienza del nesso ambiente, paesaggio, patrimonio culturale si è manifestata sin dagli anni Ottanta. E cito qui soltanto una figura chiave, quella di Giovanni Urbani, direttore a lungo dell'Istituto Centrale per il Restauro. Anche se la conservazione programmata da lui suggerita, in particolare con un piano pilota per l'Umbria, rimasto a lettera morta, non è stata mai adottata dai governi italiani, né allora né dopo. Senza poterla qui specificare, cito una sua dichiarazione in favore di quello che egli chiamava la logica industriale della produttività applicabile all'attività conservativa. E cito ancora, bisogna convincersi che la chiave del problema sta nel creare le condizioni che favoriscano il passaggio dell'attività conservativa dall'attuale Stato di attività marginale sul piano produttivo a una fase di sviluppo che non può essere definita altrimenti che come industriale. La citazione finisce qui. Secondo Urbani, un intimo legame contestuale fa del territorio e dell'ambiente, città, campagna, paesaggio, un continuum inscindibile da tutelare nel suo insieme. Le relative politiche pubbliche di investimento dovrebbero innescare, dice Urbani, dei potenti meccanismi di sviluppo e di occupazione. Ne nasce anche l'esigenza, irrisolta fino ad oggi, di intendere le strutture di tutela patrimoniale e territoriale come enti di ricerca, fondendo le pratiche conservative con la dimensione conoscitiva del patrimonio, con la pianificazione urbana e paesaggistica, con lo sviluppo civile della società. Connesso con questo, ma non meno importante, è un altro punto. Le città, i paesaggi, il patrimonio storico, artistico e archeologico, le strategie e i luoghi della ricerca e della formazione, l'insieme del territorio, vanno intesi, nel senso precisato da Heberle che ho ricordato, come spazio culturale e dunque meritano forti e mirati investimenti pubblici. Per dirlo con altre parole, la definizione di patrimonio culturale, così come quella di paesaggio o di ambiente, non deve essere essenzialmente di natura estetica, qualcosa da guardare, ma di natura etica, se volete persino etologica, qualcosa dentro cui vivere, con cui vivere, da migliorare, pensando ai nostri pronipoti. Annesso forte fra scuola, ricerca e università, implicito nella tessitura della nostra Costituzione e ulteriormente chiarito da chi voglia leggere la discussione relativa nell'Assemblea Costituente e che è importante per l'interpretazione anche dal punto di vista giuridico, a quel nesso va imputato il valore fortemente educativo delle azioni di ricerca e di tutela sul nostro patrimonio e sulla nostra storia. Queste azioni di ricerca e di tutela non sono un ornamento, non sono marginali, non sono un optional, hanno il compito di conoscere intimamente il patrimonio culturale e paesagistico, conoscerlo per farlo conoscere a tutti i cittadini, in modo che ciascuno lo consideri cosa propria, come appartenenza necessaria alla comunità di cui ciascun cittadino fa parte. Non per caso l'articolo 9 usa il cruciale termine nazione che nell'intera Costituzione ricorre soltanto tre volte. In tal modo il patrimonio culturale e il paesaggio diventano legante della comunità, garanzia di cittadinanza, strumento di eguaglianza fra i cittadini e dunque di democrazia. Questo, e non può esservi dubbio, è il progetto della Costituzione, un progetto che ancora oggi ci affascina e ci interroga. In che misura, chiediamoci dunque, esso è stato finora attuato e che cosa si sta facendo oggi perché venga attuato domani? L'orizzonte culturale nelle arti, nella ricerca, nella scuola, nell'università, nella tutela di ambiente, di paesaggio, di patrimonio culturale, può essere efficacemente definito come teatro della democrazia, in quanto incarna valori collettivi e permanenti e richiede quella specie di lungimiranza bifronte, a cui siamo chiamati noi che lavoriamo nelle università. Una lungimiranza volta sia al passato che al futuro, volta a conservare la memoria e la storia, ma anche a garantire i diritti delle generazioni future. Recuperare le panche perché vi si possano sedere degli studenti fra cento anni. Le istituzioni e le attività culturali che hanno meritato menzione nella Costituzione compongono una piena unità, le cui parti si illuminano a vicenda, si collegano a un orizzonte di diritti, sono ingredienti essenziali della democrazia perché la Costituzione non è una collana di perle o un rosario in cui ciascuno degli articoli possa essere staccato dagli altri, è un'architettura di valori. E su questo sfondo che in un Paese come l'Italia oggi è affetto da una crisi collettiva di memoria, dobbiamo ricordare a noi stessi che la cultura, secondo la Costituzione, è un bene comune. Secondo il nostro ordinamento, i valori della cultura non sono un tema di nicchia, ma appartengono a un'architettura di diritti che si lega strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia, eguaglianza, libertà, equità sociale, dignità della persona umana. Di tali orizzonti la nostra Costituzione è un ottimo manifesto, anche se, come diceva Piero Calamandrei, essa è davvero la grande incompiuta. E' incompiuta perché dobbiamo sempre completarla, non perché dobbiamo lasciarla incompiuta e magari renderla ancora meno completabile e ancora meno applicabile. Questa sua perenne feconda incompiutezza non è una ragione per cambiarla, bensì per esigere che venga finalmente messa in pratica. Corre oggi nel nostro Paese, prendendo talvolta i colori dell'indignazione, molto più spesso quelli della rassegnazione e della rinuncia, una domanda. Questa. E' ancora possibile progettare un futuro in cui abbiano cittadinanza valori come giustizia, equità sociale, democrazia, libertà, dignità della persona? In cui il cuore della politica sia non la geometria variabile delle alleanze o delle intese fra i partiti che fioriscono uno dopo l'altro, ma la forte trama dei diritti civili? In cui per politica non si intenda un mestiere fra tanti, ma come vorrebbe l'etimologia, la genealogia storica e culturale della parola, in cui politica sia la trama del discorso fra i cittadini nella polis, cioè nella comunità. Io credo che sarà possibile questo, solo se sapremo ricollocare il bene comune al centro di un nuovo discorso sulla cittadinanza, un discorso in cui la cultura ha un ruolo centrale secondo la Costituzione. E sulla Costituzione vorrei ora concludere con l'ultima parte di questo mio piccolo discorso. Il ruolo della cultura nella Costituzione non può essere inteso senza evocare, oltre che quello di bene comune, alcuni altri concetti chiave. Popolo, cittadino, lavoro, solidarietà. Il bene comune è il vero principio ordinatore della Costituzione, che lo definisce, che non usa mai l'espressione bene comune, che c'è peraltro molto spesso negli atti della Costituente, ma la Costituzione usa una serie di altri termini. Interesse della collettività, interesse generale, utilità sociale, fini sociali, funzione sociale, utilità generale, pubblico interesse. Sono complessivamente una ventina di occorrenze, di espressioni non coincidenti ma convergenti, che si integrano l'una nell'altra in una architettura molto coerente. Quanto a popolo, essa è la parola più pregnante per designare il soggetto collettivo che è il protagonista della Costituzione. Al popolo appartiene la sovranità, articolo 1, e perciò in suo nome viene amministrata la giustizia, dice l'articolo 101. Al popolo come soggetto collettivo corrisponde una parola altrettanto ricca di senso, cittadino. Il cittadino è per definizione membro del popolo, dunque titolare della sovranità. Perciò l'articolo 3 può dire che tutti i cittadini, sto citando, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Può dire, cito ancora, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E i cittadini spettano diritti inviolabili come la libertà, tre volte ricordata negli articoli della Costituzione, in particolare la libertà di riunione, di associazione, di culto, di parola, di pensiero, di stampa. Tutti i diritti connessi strettamente con la libertà della cultura. E ricordo che tutto questo discorso sulla dignità umana, sulla dignità della persona, viene nella nostra Costituzione quasi un anno prima della dichiarazione dei diritti dell'uomo, delle Nazioni Unite. Un altro grande tema della Costituzione è il lavoro, che ricorre sin dall'incisiva definizione a tutti noto dell'articolo 1, l'Italia non repubblica democratica fondata sul lavoro. Con un 45% di giovani disoccupati, non so quanto possiamo dire che questo sia oggi vero. Ed è al cittadino lavoratore che l'articolo 36 garantisce una esistenza libera e dignitosa. Perciò recita l'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Infine, i valori del bene comune, l'etica del lavoro e della cittadinanza determinano nella Costituzione quelli che l'articolo 2 chiama i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e cioè il necessario equilibrio fra diritti e doveri, perché la Costituzione non è solo un manifesto di diritti, ma anche un manifesto di doveri del cittadino, perché non esistono diritti senza doveri che ad essi corrispondono. Il cittadino lavoratore non può essere consapevole protagonista della vita economica e sociale del Paese senza un ingrediente essenziale, il diritto alla cultura. L'articolo 9, che ho già citato più volte, dice così, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Cultura, ricerca e tutela contribuiscono al progresso spirituale della società, articolo 4, allo sviluppo della personalità individuale, articolo 3, si legano alla libertà di pensiero, articolo 21, alla libertà di insegnamento, articolo 33, all'autonomia delle università e la centralità della scuola pubblica statale e del diritto allo studio, articolo 34. Inoltre la Corte Costituzionale, ragionando sulla convergenza fra la tutela del paesaggio, dell'articolo 9, e la tutela della salute, articolo 32, ha stabilito che anche la tutela dell'ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto in quanto espressione di un interesse diffuso dei cittadini. Caso molto interessante perché il fatto che di ambiente non si parlasse nella Costituzione del 48 è ovvio perché la cultura ambientalista a noi oggi così familiare non lo era affatto nel 1946-47 quando le sedute della Costituente si svolsero e allora con l'ingegneria istituzionale assai superficiale di moda oggi si direbbe beh allora cambiamo la Costituzione. Non ci fu nessun bisogno. In via interpretativa bastò mettere insieme l'articolo 9 con l'articolo 32 e abbiamo nella Costituzione italiana quella che è universalmente considerata la più avanzata nozione costituzionale di ambiente del mondo in una Costituzione scritta entro il dicembre del 47. Questa creazione in via interpretativa di questa avanzatissima nozione costituzionale di ambiente è la prova provata di quanto la nostra Costituzione sia lungimirante e che essa dunque non va cambiata o per meglio dire prima di cambiarla va interpretata e soprattutto applicata. Perciò non posso guardare senza diffidenza e timore a chi pretende di cambiare la Costituzione oggi ma nulla fa e nulla dice sulla necessità di metterla in pratica in tutte le parti della Costituzione che in pratica non sono oggi messe. Come stanno insieme per fare un solo esempio il diritto al lavoro dell'articolo 4 della Costituzione e la drammatica crescente disoccupazione giovanile? Ora secondo la nostra Costituzione il diritto al lavoro e la dignità della persona si legano alla stessa concezione secondo cui ambiente, paesaggio, beni culturali, scuola, università, ricerca formano un insieme unitario e inscindibile la cui estensione corrisponde al territorio nazionale. Fanno tutt'uno con la nozione stessa di cittadinanza e di nazione e con esse concorrono in misura determinante il principio di uguaglianza fra i cittadini, alla loro pari dignità sociale, alla libertà, alla democrazia. Perciò la loro funzione è costituzionalmente garantita. Sapete che Piero Calamandrei aveva detto una volta che la scuola come la vedo io è un organo costituzionale. Noi dovremmo dire anche l'università come la vediamo noi è un organo costituzionale. I musei, le soprintendenze, i teatri, l'esercizio della cultura da parte dei cittadini per i cittadini, come elemento del discorso fra cittadini e come legante della comunità sono, in un senso metaforico si capisce, organi costituzionali, ma la Costituzione ci invita a considerarli così. Questo diritto alla cultura che la Costituzione italiana assicura ai cittadini, anche se poi non è detto che i governi abbiano letto la Costituzione, questo diritto alla cultura è un caso rarissimo nel panorama mondiale della Costituzione. La più illustre, quella degli Stati Uniti, che è sempre la stessa dal 1789 con una ventina di emendamenti, alcuni dei quali a loro volta cancellati da altri emendamenti, e che gli americani non sentono il bisogno di cambiare, ma che considerano un testo sacro, non contiene nulla che somigli a queste cose che ho appena citato. Questo vuol dire che se noi ragioniamo su questo, vediamo che nel rilanciare l'etica della cittadinanza, puntando su mete necessarie come la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente, il diritto al lavoro, la priorità del bene comune sul profitto del singolo, la democrazia, l'uguaglianza, l'integrazione dei nuovi italiani, perché tutte queste mete siano praticabili e concrete, è necessaria la piena centralità della cultura che la Costituzione già in modo assai lungimirante garantiva. Come diceva ancora una volta, cita ancora una volta Calamandrei, la Costituzione deve essere presbite, non deve essere miope, deve guardare lontano, non deve guardare vicino. Se concepiamo la cultura come il cuore e il lievito dei diritti costituzionali della persona e insieme ai leganti della comunità, capiremo che essa è funzionale alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza, alla dignità della persona. Non è un ornamento, è essenziale, come l'aria. Difendere il diritto alla cultura è difendere l'intero orizzonte dei nostri diritti, perché i diritti, se non li difendi, li perdi. Ma se non li conosci, non saprai difenderli. Questa è la nostra funzione di insegnanti, anche se insegniamo materie molto diverse, come è il mio caso. La funzione della cultura è anche questa, far conoscere i nostri diritti, lo spessore storico, filosofico, etico, religioso. Un classicista come me può citare la democrazia antica, anche per dire quanto era differente, perché la democrazia di Atene non contemplava il voto alle donne e c'era la schiavitù, quindi non è che dobbiamo dire che dobbiamo essere democratici come periche, dobbiamo esserlo molto di più. Però dobbiamo sapere che cosa voleva dire democrazia, da dove viene la parola democrazia, non soltanto dal punto di vista dell'etimologia linguistica, ma della genealogia culturale. Anche questo è il compito dunque di chi pratica le scienze storiche, ricordarsi e ricordare che la storia non è evasione, non è una via di fuga dal presente, una sorta di tranquillante che ci allontana dalle urgenze dell'oggi regalandoci un oasi di tranquillità e di pace. Al contrario la storia ci deve aiutare a interpretare le radici delle nostre urgenze e dei nostri problemi per dar corpo e per dar ragione ai nostri disagi. E vorrei dirvelo proprio con le parole di un grandissimo storico antico del primo novecento, Gaetano de Sanctis, capovolgendo un famoso detto, egli ha detto la vita è maestra della storia, non la storia è maestra della vita. Che cosa vuol dire? Sono le urgenze del presente che ci spingono a rileggere le vicende del passato non come accumulo di dati eruditi, non come archivio polveroso ma come memoria vivente della comunità umana. Solo questa concezione degli studi storici può trasformare la consapevolezza del passato in un lievito, in un ingrediente per il presente, in un serbatoio di idee e di energie per costruire il futuro. E infatti dovere anzi mestiere degli storici coltivare per mestiere uno sguardo lungo verso il passato ma anche verso il futuro. Una visione delle cose degli uomini che riguarda il passato e l'avvenire, premessa necessaria se vogliamo costruire un qualche avvenire che meriti la nostra attenzione e il nostro desiderio. Ricordo perché è sempre attuale il forte ammonimento di Bertolt Brecht per la difesa della cultura al Congresso Internazionale degli Scrittori. Si abbia pietà della cultura, diceva Brecht, ma prima di tutto si abbia pietà degli uomini. La cultura è salva quando sono salvi gli uomini. Non lasciamoci trascinare dall'affermazione che gli uomini esistono per la cultura e non la cultura per gli uomini. Riflettiamo sulle radici del male, scendiamo sempre più in profondo attraverso un inferno di atrocità fino a giungere laddove una piccola parte dell'umanità ha ancorato il suo spietato dominio sfruttando il prossimo a prezzo dell'abbandono delle leggi della convivenza umana, sferrando un attacco generale contro ogni forma di cultura. Ma la cultura non si può separare dall'attività produttiva di un popolo, tanto più quando un unico assalto violento sottrae al popolo il pane e la poesia. Per un italiano non c'è arma migliore per condurre questa battaglia di cui parlava Brecht della nostra Costituzione. Dalla nostra indignazione giusta deve nascere un rinnovato esercizio di quello che si può chiamare il diritto di resistenza, altissimo principio che percorre tutta la storia italiana, intrecciandosi con altre cose più frequenti statisticamente. La tendenza a servire. Se la tendenza a servire è una costante della storia italiana, dovuta, alcuni dicono, alle dominazioni straniere, ma non voglio entrare in considerazioni storico-antropologiche di questo tipo, il diritto alla resistenza però continua ad emergere. Per concludere ne ricorderò due soli momenti. Il primo è l'articolo 15 della Costituzione della Repubblica Partenopea del 1799, che diceva così la resistenza è il baluardo di tutti i diritti. Mica male per il 1799. Il secondo è un articolo della nostra Costituzione che fu proposto da Giuseppe Dossetti, grandissimo Costituente, grandissimo italiano, nella seduta della Costituente del 21 novembre 1946. Ve lo leggo. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti della presente Costituzione e diritto e dovere di ogni cittadino. Questo articolo non fu approvato perché i Costituenti, altri Costituenti, osservarono che era già implicito nel resto della Costituzione. Però io vorrei che noi tenessimo fede a questo articolo, che anche se non è entrato in Costituzione, ne specchia in pieno allo spirito. Oggi più che mai, per sfuggire agli illusionismi che crescentemente ci assediano e ci tormentano. Lo spirito di una resistenza in questo senso, nel senso di Dossetti, è necessario per ricreare una cultura della cittadinanza capace di muovere le norme e di progettare il futuro. E questa resistenza in una sede accademica si esprime anche creando nuove istituzioni, operando perché funzionano. È quello che fate a Udine oggi. Molti auguri. Grazie. Grazie.